In questo mondo in cui ognuno è chiuso in se stesso, è facile perdere di vista le cose reali. Hai detto che non sai quanto tempo ti resta. Cosa intendevi? È importante sapere che hai compresa una piccola procedura medica. Tutto questo per un gioco? Non mi sarei mai aspettata di vivere nel futuro, ma invece eccomi qua. Quindi hai appena ucciso i tuoi primi parassiti? Sì. E come ti sei sentito? Mi hanno filmato. Filmato? Dalla telecamera del computer. C'è qualcuno! C'è qualcuno! Doveva essere pazzesco prima del sistema. Non ti succederà niente. E andrà tutto bene. Dove mi trovo? Hip, hip! Urrà! Pubblicità lieto film. Devi spegnerlo. Ma... Realisticamente quanto può durare una condizione di felicità? avere fiducia nel sistema. Perché alla fine ce la farete. Rispettiamo la privacy. Insomma, noi due dovremmo... Dovremmo farlo. Definire... Farlo. Che cavolo! Che possiamo fare? Tutto accade per una ragione. No, è più come un incubo a chiaperti. Tutto accade per una ragione. 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 Tutto accade per una ragione.